Attualmente sono circa 50 le imprese che hanno riaperto le loro attività nel centro storico aquilano o meglio nella cinta urbana, commercianti e artigiani che hanno fatto sforzi notevoli per potersi ricollocare all'Aquila nel dopo sisma. Alcuni hanno riaperto nell'immediato dopo sisma e sono costretti oggi a doversi spostare di nuovo per poter permettere i lavori di ricostruzione. 50 attività, un numero davvero ancora troppo lontano dalle mille imprese che nel 2009 popolavano il centro. Troppa burocrazia, tasse troppo alte, anche se il sindaco Cialente ha di recente parlato di incentivi per chi riaprirà l'attività in centro. Siamo ovviamente sotto 50 imprese rispetto alle circa mille che erano prima nella nostra cintura urbana. Siamo molto lontani, c'è uno sforzo devo dire positivo da parte delle risorse che derivano dai fondi per la ricostruzione. Siamo attivi nel tavolo che la regione ha predisposto. Ci sono diverse aziende che sono interessate a ricollocarsi nel centro storico. Attendiamo però che queste misure e le disponibilità che per fortuna ci sono diventino anche con le norme di attuazione presto realtà. Purtroppo il divario socio-economico tra la costa e l'Abruzzo interno resta altissimo. Una buona possibilità è data dai fondi europei per il rilancio delle imprese delle zone interne, ma questi vanno gestiti bene, sicuramente meglio di come sono stati gestiti finora. Considerato che purtroppo il divario che separa sempre di più in maniera evidente le zone costiere dal nostro territorio interno dal punto di vista socio-economico, hanno bisogno di politiche mirate che possano dare rilancio all'economia della nostra zona che peraltro ha avuto già un doppio shock quello che riguarda purtroppo il sisma del 2009 e la crisi poi che è derivata nel 2011, crisi che ha investito le nostre piccole imprese. Quindi lo sforzo a fare squadra è a individuare progetti e finalità socio-economiche capaci di dare risposta alla nostra economia abruzzese come sistema.